Ancora dal bellissimo borgo di Nord di Pace, col primo cittadino, il signor... Romano Loielo. Atteso da tanti, non solo elettori, ma tantissima gente che l'ama, la stima. Senta, una domanda velocissima, perché piace a tutti? E questo dovremmo chiederlo a tutti. Credo che la cosa che convinca gli elettori a votarci, a votare me e la mia squadra ovviamente, non credo di piacere da solo e il fatto che ci dedichiamo anima e corpo alla nostra comunità, il segreto è quello, non c'è altro. Dicono che per fare il sindaco è un mestiere difficile, ci sono tante responsabilità, è vero? Non è consigliabile, non è consigliabile a terzi. Senta, quali sono i lavori, i progetti in futuro per questo bellissimo borgo? Ma guardi, noi stiamo lavorando adesso in maniera appassionata, ma ci stiamo concentrando molto per lo sviluppo del vecchio abitato, più che borgo il paese vecchio abitato, che era poi il cuore pulsante dell'intera comunità, quando il centro abitato nuovo e la frazione di Cassari ancora non esistevano. Poi a causa dell'alluvione è stato trasferito tutto qui al nuovo centro abitato oceano e la frazione di Cassari. Ebbene, lì il fascino e le caratteristiche di quel centro abitato sono straordinarie e quindi stiamo cercando di lavorare per promuovere quel territorio e renderlo un'attrattiva turistica assieme ai megaliti, che sono una delle pochissime attrazioni che abbiamo nel nostro territorio, oltre alla natura, quindi allo spettacolo straordinario della natura che abbiamo in queste montagne, dove abbiamo anche il primato di essere il centro abitato più alto della Calabria. Abbiamo qui in Aldo di Pace appunto a 1.100 metri ed è il centro abitato più alto. Chiunque viene qui rimane affascinato dalle bellezze naturali del territorio. Mancano servizi, quindi stiamo lavorando molto per offrire servizi a chi si avventura nelle montagne per godersi questo vero e proprio patrimonio dell'umanità e quindi dobbiamo rendere fruibile il territorio attraverso servizi. Quindi penso a BNB, siamo oggi al secondo BNB, già uno esiste, il vecchio abitato, se ne sta per realizzare un altro, sento parlare anche di qualche piccola trattoria, ristorantino. Quindi questa è un'occasione buona per lanciare per bene quel piccolo paesino che può essere un momento economico importante per un territorio che è noto purtroppo per essere stato in passato il paese più povero d'Italia. Quindi noi questo concetto, questa macchia vogliamo levarla, ma per farlo bisogna lavorare un po' tutt'assieme l'amministrazione, i cittadini, tutti quelli che hanno interesse affinché questo territorio cresca e si sviluppi affinché appunto si chiedono le condizioni per poter lavorare, andare avanti e mantenere questo paese che ha delle straordinarie potenzialità. Senta, come mai hai deciso di fare il sindaco proprio qui a Nardo di Pace? Io sono Nardo di Pacezza e Doc, amo il mio paese, ho lasciato un po' tutto per rimanere qui quando avevo avuto grandi opportunità per stare altrove e l'ho fatto senza rimpianto perché appunto amo il mio paese, amo questo ruolo perché è un'occasione importante per poter realizzare e creare i progetti che si hanno in mente. Quindi guidare una comunità non è andare in giro col pennacchio, con la faccia tricolore, è anche quello. Ma la cosa importante è che hai l'opportunità per davvero di poter concretizzare quelle che sono idee che spesso si ragionano in piazza, ragionano tra gli amici, si discutono ma non possono essere realizzate perché mancano gli strumenti. Guidare una comunità ti dà la possibilità nei limiti delle risorse ovviamente disponibili, nei limiti delle possibilità anche, come dire, normative che si hanno però hai l'opportunità di poter concretizzare quelle idee che possono essere anche l'occasione per stravolgere l'intera comunità in senso positivo. Ci auguriamo e cerchiamo di fare questo. La soddisfazione più grande da primo cittadino che ha avuto in questi anni di carica di sindaco qual è stata? La soddisfazione più grande è vedere i cittadini e apprezzare quello che fai. Spesso si dice puoi fare quello che vuoi e la gente non è mai contenta. Non è così perché ci sono delle cose che vengono invece molto apprezzate, soprattutto quando i cittadini capiscono che lavori nel loro pieno interesse, quando lavori proprio per la comunità e si vede, non è difficile capirlo. Quando uno sta tra la gente come faccio io e sente quindi i malumori, riceve anche i complimenti, quando capita di raro perché poi spesso la gente magari non te li fa seppur pensa che sia il caso di farlo, ma non te li fa, però lo capisci che sei apprezzato per quello che stai facendo. Si capisce che la gente è contenta quando vedi in qualche modo crescere la comunità. Ho visto che è stato fatto oggi stesso un documento da voi per quanto riguarda il caseificio di Nardo di Pace. Ebbene, quella è una creatura che è nata da poco a Nardo di Pace e che ha riscorso ottimi successi. C'è stata la collaborazione dell'amministrazione comunale, abbiamo fatto, mi pare, inizio anno, adesso mi sfugge la data. Maggio, maggio. Mi pare forse sì, forse maggio. L'inaugurazione è stata bellissima, c'erano quasi 200 persone provenienti un po' da tutto, sia dalla fascia ionica, dall'area delle serre, oltre che da Nardo di Pace. Siamo stati assieme poi in un pranzo offerto dalla stessa marinella, la proprietaria del caseificio. Ed è una realtà economica che sta andando avanti bene ed è importante per un territorio dove mancano quasi tutte le attività economiche essenziali. aver realizzato un laboratorio impeccabile, perché poi lavorano in maniera davvero impeccabile, sono attrezzati a norma di legge, in maniera perfetta, come appunto tutti dovrebbero fare e come è previsto fare. Quindi cerchiamo di andare avanti, ci sono in cantiere nuove attività, nuove opportunità e cerchiamo di lavorare tanto, soprattutto, ripeto, ancora una volta, puntando sull'attrattiva naturalistica del territorio e quindi sullo sviluppo del turismo montano, che il territorio ce lo consente tanto e sarebbe un reato non sfruttare queste grandi occasioni nell'interesse di una comunità che rischia altrimenti davvero di perdersi e morire. Avete a due passi anche la Ferdinandea? Abbiamo a due passi la Ferdinandea, ma abbiamo anche le ferriere quindi collegate con la Ferdinandea di Mongiana, abbiamo la Gertosa di Serra, abbiamo delle grandi potenzialità, non è solo Nardo di Pace, chiaramente Nardo di Pace fa parte di uno scacchiere molto più ampio, ma abbiamo anche ad esempio a meno di mezz'ora il mare, abbiamo la Costa Ione, che siamo un comune con una immensa fortuna di essere collocato a 1100 metri sul livello del mare, ma a mezz'ora poter raggiungere appunto il mare e quindi poter sfruttare il turismo Maremonti in maniera davvero quasi inconsueta, perché è difficile trovare una collocazione come quella nostra. Uno per tutti vi posso raccontare, per esempio quest'estate nel vecchio abitato c'era una famiglia di polacchi, avevamo sette polacchi che soggiornavano nel B&B al vecchio abitato, e questi, pensate bene, sapevano quello che facevano, avevano voluto questo, erano venuti a soggiornare al vecchio abitato e andavano al mare a Capovaticano, quindi tutti i giorni questi si sobbarcavano più di due ore di viaggio solo andata per arrivare a Capovaticano al mare e poi tornare al vecchio abitato di Nardo di Pace per dormire e quindi svegliarsi in mezzo alla natura, fare la passeggiata al fiume Allaro e in mezzo alle campagne, in mezzo alla natura quasi incontaminata. Era questo che volevano e questo hanno avuto. Così come la famiglia di Ischia, per esempio, una famiglia di professionisti che era lì, erano 5-6 persone con i figli, sono venuti a fine agosto, hanno soggiornato una settimana e loro arrivano dal cuore del turismo, dell'isola d'Ischia. Eppure ci hanno proprio raccontato che volevano quello, sapevano di venire lì e trovare quello questi sono i promessi di tornare, ma sono rimasti positivamente sbalorditi dalla bellezza non solo del paesaggio ma anche dell'ospitalità dei cittadini in Nardo di Pace perché questa gente poi, quando capita che organizziamo degli eventi, sta in mezzo a noi anche gli stranieri che non parlano nemmeno una parola di italiano stanno in mezzo a noi, mangiano con noi, si divertono insieme a noi e credo queste siano cose che in giro per il mondo non si trovano facilmente. Senta, chiudo questa intervista ringraziandola. Io ringrazio lei per darci l'occasione di promuovere non me ma la comunità di Nardo di Pace, cosa a cui tengo davvero tantissimo, perché la comunità e il territorio di Nardo di Pace hanno bisogno davvero di sentire parlare positivo di loro, di questo territorio. Se ne è parlato molto spesso in maniera negativa ma Nardo di Pace non è fatto solo di cose negative. Ci sono qualche aspetto negativo, c'è come in tutte le altre realtà, ma le bellezze del territorio e la bontà della comunità Nardo di Pace superano quei pochi e scarsissimi elementi negativi che retrocedono di fronte a tutto il resto. Quindi venite a Nardo di Pace, venite a godere assieme a noi delle bellezze di Nardo di Pace e rimanrete sicuramente soddisfatti. Quindi grazie a voi per l'opportunità che ci date, grazie a tutti i giornali, le televisioni, ma voi in particolare che studiate bene il territorio, in maniera che conoscete benissimo il territorio, che date questa opportunità attraverso il web, attraverso anche i social media, di poter promuovere la nostra bellissima comunità. E poi è una zona che io voglio approfondire anche con lei adesso, a livello di lupi, di cervi, ricca, e quindi magari il lupo potrebbe essere un'attrazione naturalistica. Anche il lupo potrebbe essere un'attrazione naturalistica. Adesso per esempio ci dedicheremo a sistemare, ripulire e organizzare una serie di sentieri nel territorio per consentire a chi viene qui a visitare Nardo di Pace in bicicletta, a piedi, e quindi facendo del trekking nel territorio, di poter camminare in quei vecchi sentieri che utilizzavano i nostri antenati per muoversi dalle varie fazioni e dalle varie borgate che era normale abitare a quei tempi. E Golere è ancora da vicino le bellezze naturali, fra i quali anche magari i lupi e tutti gli animali, i numerosi animali selvatici che abitano nel territorio. Qui sono i cinghiali, possiamo incontrare i cinghiali, possiamo incontrare i cervi, possiamo incontrare appunto anche i lupi, ma tutta una serie di animali di varie taglie è una zona dove ad esempio i lupi popolano in maniera diffusissima questo territorio, ma ci sono tutta una serie di altri animali, tassi e quant'altro. Cioè qui veramente sei immerso nella natura e purtroppo molti di noi, molti cittadini che abitano in questo territorio non si rendono conto dello straordinario vantaggio che noi abbiamo. Si dà tutto per scontato, anche gli aspetti naturalistici, le bellezze naturali, le montagne, la vegetazione, sembrano quasi scontate, pure non lo è. E questo te ne accorgi, lo vedi quando chi arriva da fuori, soprattutto gli stranieri, ma soprattutto quelli che arrivano dalle città, guardano questo territorio con occhi incantati. Dicono avete una grande fortuna e forse voi non ve ne accorgete, perché noi viviamo quotidianamente invece messi nel traffico, nel cemento, nel caos e nella depressione delle grandi città. Qui invece si può vivere bene e speriamo che si riuscirà tutti assieme, saremo in grado di poter offrire a tutti i cittadini del mondo la possibilità di vivere almeno per qualche giorno questa nostra comunità. Mi viene in mente stare qua magari sulla neve ammirando il mare. Ammirando il mare, infatti ci sono dei punti qui da noi, penso a Santo Todoro, penso al vecchio abitato, dove si può vedere la costa ionica. Normalmente scendendo verso Santo Todoro c'è un punto dove, a un chilometro proprio da Santo Todoro, si può osservare il mare di Caolonia. E quindi davvero ci sono dei luoghi di straordinaria bellezza che invito tutti a venire a visitare. Senta, un'ultima domanda. Cosa vuol dire Nardo di Pace? Nardo di Pace sono diverse teorie. C'è chi dice che Nardo di Pace fosse un fiore, quindi sarebbe il fiore della pace. Una cosa è certa, veramente qui si potrebbe e si può vivere in pace per la serenità che il luogo ti emana e quindi riesci ad acquisire questa serenità d'animo da poter vivere per davvero in maniera serena e felice. Abbiamo qualche esperienza di gente che è venuta anche dall'estero, ha acquistato casa e è rimasta qui a vivere proprio a Nardo di Pace. C'è uno svizzero che credo adesso sia una ventina d'anni che si è trasferito qui, proprio in campagna, abita in una campagna qui a Nardo di Pace, ha voluto questo, ha voluto comprare quella casa e abita lì in maniera serena, tranquilla e lui risulta essere una delle persone più felici del mondo perché è riuscito a soddisfare quello che era il suo desiderio, cioè vivere proprio in un posto così. Adesso la famiglia, due bambini, vanno a scuola e vive bene. Va bene, grazie sindaco. Grazie a voi.